Ciao a tutti, eccomi in un nuovo filmato e sarà un nuovo tour per quanto riguarda una distribuzione derivata di Ubuntu che fa parte di quelle uscite che riguardano la 2104, in questo caso è sempre beta perché ancora deve uscire, e su questa beta, parliamo di Ubuntu, Ubuntu che il nome stesso fa capire che usa con la sua K il KT, quindi il plasma come ambiente grafico. Il plasma che è considerato da tanti, compreso anche me stesso, è il miglior desktop environment in circolazione al momento. Ora non so se GNOME 40 o 4.0 riuscirà a superare diciamo come qualità il KDE, ma mi sembra un po' ardua diciamo l'azione che da fare per superare un ambiente così pignolo e particolare e con una funzionalità che non è uguale. Sono uno di quelli che però lo evita spesso perché troppo dispersivo. Ecco, nella sua quantità di alternative vi rende la vita un po' come si dice, non vi rende la vita difficile ma ve l'ha complicata voi stessi con configurazioni infinite, magari non siete contenti di come avete messo quella impostato sulla finestra o qualche altra cosa, poi ricominciate da qua, insomma è un modellare continuo, un desktop environment. Mentre nel caso dove sono ora che ho cambiato rispetto ai video precedenti sono su LXDE, rispetto a questi desktop environment che sono semplici semplici, non vi mettete a sbizzarrirvi tutte le volte a cambiare impostazione e cose varie, insomma vi accontentate di quello che c'è forse è la migliore cosa perché poi alla fine quello che conta è la funzionalità e la velocità più che altro dell'esecuzione dei programmi. Ora qua mi metto in primo piano, sempre sopra, qua vi faccio vedere la prima immagine che riguarda Qbuntu di quello che stiamo parlando, 2104 Beta. Allora come vedete c'è un nuovo launcher che riguarda appunto il, ma no perché Qbuntu, ma perché stiamo parlando del PASMA 521 se non erro, è stato cambiato il tradizionale kick-off, il menu che si chiamava kick-off se non erro, tipico menore del KDE che aveva delle icone qua dei vari settori grandi e poi scorrevate col mouse, si scorreva col mouse e poi potete andare in preferite oppure tutte le applicazioni e così via. In questo caso questo menu è stato forgiato con un corridoio dove c'è giochi, grafica, internet, i vari settori dei programmi e nella parte più larga ci sono con icone molto più visibili i programmi dei settori in cui siete arrivati praticamente dove avete selezionato. Somiglia diciamo in abbastanza a un menu un po' alla cinnamon, o se vogliamo andare oltre, parlare sempre del zio Bill andiamo sulla microsoft con windows 10 ovviamente non ci sono quelle piastrelle che si vanno muovendo come windows 10 con le app che si muovono però diciamo l'impostazione più o meno è quella quindi c'è un po' di somiglianza su questo quindi se preferite cambiare graficamente nelle tendenze attuali cioè fare un menu un po' più ergonomico devo dire più ergonomico penso sia migliorare il kick off prima perché il kick off era un po' come ho detto all'inizio il kd tende sempre a essere troppo pignolo e quindi le cose semplici le fa diventare difficili in questo caso hanno semplificato il menu e devo dire che hanno fatto bene poi vado ad un'altra fotografia un'altra statica facciamo così quello che capita dico allora sul su kd e scusate su qbuntu 21.04 beta c'è sempre installato il thunderbird c'è installato il thunderbird c'è installato il mozilla thunderbird che in questo caso nella versione 78 se non erro punto 8 è un po' sfogato comunque se non erro è 78 punto 8 comunque non è rilevante quello diciamo la versione comunque è diciamo che è una novità di per sé perché thunderbird non era un predefinitore kd e neanche di qbuntu se ricorda bene poi se sbaglio ditemelo perché da tanto che non uso qbuntu o kd però penso che thunderbird non era diciamo uno dei programmi impostati su il default su kd la versione del libreoffice c'è la suite office già preinstallata su qbuntu 21.04 beta e credo anche nella versione definitiva e c'è il libreoffice che è questo qua versione 7.1 dico anche gli altri numeri punto 2.2 libreoffice suite gratuita di ufficio che non ha niente da invidiare alla microsoft come office e che già da tempo ha piantato open office che ancora diciamo c'è open office io l'ho utilizzato e l'utilizzo ancora in un windows 7 in un altro computer qualora mia moglie ci ho messo open office e su windows 10 non mi sono messo là a cercare un office della microsoft ci ho messo ci ho messo open office anche perché è molto più adattabile al windows rispetto al libreoffice e qua abbiamo visto il libreoffice che è già preinstallato abbiamo sempre dolphin ovviamente le icone sono i breeze sapete una volta c'erano le icone quelle sempre quelle tradizionali di kd che poi magari andrò a vedere in internet perché al momento non mi ricordo come si chiamavano ecco queste sono le ammenesie della cosiddetta diretta registrata e qua abbiamo diciamo le bridge come icone e il dolphin che sapete benissimo che è il più completo file manager che si possa avere si può dividere in due schede avete la rotellina per aumentare lo zoom o diminuire lo zoom potete scegliere se vedere l'anteprima di cosa c'è internamente selezionate all'icona di solito è impostato con un clic solo c'è per aprirsi un clic solo però in alcuni casi si può anche viene anche già predefinito con due clic o potete voi stessi potete fare di tutto con dolphin ed è il file manager che diciamo standardizza il fatto è standardizzato il fatto che potete cambiare diversi file potete rinominare potete fare la multirinomina diciamo dei file perché ci sono degli ambienti grafici che non hanno la possibilità di rinominare diversi file contemporaneamente ma dovete ammettere un tool che faccia questo in questo caso su dolphin potete fare esattamente quello che fate con windows c'è rinominare tanti file tutti in una volta senza particolari problemi o impostazioni da fare andiamo avanti c'è come browser predefinito il firefox il fantomatico firefox che è la versione 47 come versione le rilascio il file come ho detto nei video precedenti è il browser che è un po' la mascotte di tutti i sistemi operativi linux e quindi ben venga perché è uno dei migliori se non il migliore browser che abbiamo in circolazione poi abbiamo qua riproduttore musicale che in questo momento non mi ricordo come si chiama è elisa si si elisa riproduttore musicale di default che si trova su q. si chiama elisa ci hanno messo un nome particolare non so perché hanno messo elisa non so perché non hanno messo il solito nome complicato ma ce l'hanno messo uno semplice si chiama elisa io non so dove mettermi mi nascondo si chiama elisa e avete la possibilità di poter avere 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 diciamo delle copertine se si può ovviamente si vede dal file cioè impostato per vedere un'eventuale copertina e poi c'è c'è la serie delle c'è la lista delle tracce c'è la lista delle tracce mi sposto io la lista delle tracce diciamo sia dei cd se ci avete inserito dei cd musicali o che so dei file in una cartella musica ecco fare un esempio ed è questo qua si chiama elisa dopo di che siamo qua in un'immagine dove c'è sempre l'applicazione launcher che è questo qua l'applicazione menu che ripeto assolutamente il kick off e abbiamo qua cosa ho preso qua c'è sempre il dolphin con la parte posteriore c'è scritto q.2104 questo qua si chiama system information ecco però l'ho nascosto non so perché ho preso queste immagini mi è venuto così forse perché sono un po diciamo ciecato e l'ho scambiato per un'altra cosa poi qua c'è vediamo con che dunque l'application education no questo è sempre il menu l'ho visto in grande mi sembrava un'altra cosa niente qua si vede la versione del menu non su q.2104 nel senso che non è scuro come l'acqua è cambiato tema e abbiamo il tema chiaro vabbè ho preso questo qua e questo è il il menu l'app menu non è più il kick off ecco questo ho preso anche questo mi viene ogni tanto di fare sdoppiare le cose come vedete nel menu andiamo indietro qua forse nel menu abbiamo ecco abbiamo le icone appunto del file fox del browser poi si può aprire dolphin impostazione e così via quel menu che vedete qua in realtà non è proprio diciamo quello di icona recubuntu quello che c'è è sempre il 5.21 del plasma del plasma qua abbiamo il il system monitor che ha sostituito il chiese guard spero di dirlo bene chiese guard che era il system monitor precedente che somigliava tanto al system monitor remate o recnom in questo caso dico sempre in questo caso è una parola che ripeto spesso vorrei eliminarla dal mio vocabolario ma lo dico sempre qua praticamente abbiamo un system monitor che è completamente diverso graficamente da quello precedente ovviamente non è cubunto che ha fatto questa variazione ma siamo sempre sulla versione del plasma che porta queste novità e ed è leggermente anche questo somigliante speriamente in questo dove speriamente in questo punto qua somigliante vedete al difen desktop che sta facendo veramente tendenza e sta un po' trascinando tutti gli altri a fare le stesse cose e come vedete il system monitor KDE plasma 5.21 è praticamente una copia del desktop environment della difen ora i cinesi stanno imperversando un po' su tutto mi sa che stanno imperversando anche nella grafica perché devo dire che come grafica sono veramente dei fuori class forse per altre cose no però per la grafica vedete che ci sono anche dei copia e incolla clamorosi anche da parte di KDE perché ha fatto praticamente la stessa cosa forse è più completa però ha fatto praticamente la stessa cosa qua come vedete io l'ho preso l'immagine che è un archi linux in realtà però insomma vi fa l'idea di come Q.2104 che alla fine l'ambiente grafico è quello io nel video precedente ho visto che c'è stato un commento che faceva riferimento io ho detto che GNOME si può utilizzare avendo dei computer abbastanza performanti mi ha risposto giusto nel senso che si anche qualche i computer di 5 anche 6 anni fa di buona fattura insomma avendo un hardware buono insomma vanno bene per il GNOME quello che è 40 o 3.38 però ha visto che ho fatto vedere il NeoFetch in realtà il NeoFetch queste sono immagini che io prendo ovviamente da internet perché ripeto non scarico le ISO però mi faccio un'idea di come è fatto il sistema operativo che sta per uscire prendo 99% dell'immagine del nuovo sistema operativo che uscirà però alcune immagini secondo siccome l'ambiente grafico è quello io vado a ripetere altre cose ho preso quell'immagine da internet e riguardava un computer che non è il mio e dava delle delle particolarità hardware che non sono quello del mio quindi in quel senso si è travasato un po' la cosa perché dice come c'è il suo hardware letteralmente nel senso che invece io ho un hardware molto più scarso io ho un pendium quindi ve lo faccio capire da qua che solo fatto che uso l'XDE OMATE per fare i filmate significa che c'è un computer abbastanza indecente se posso dire la parola giusto allora Q.21.04 il KDE Plasma versione 5.21 come ho detto dall'inizio il kernel è il 5.11 potrebbe essere anche il 5.10 qua rileva 5.11 forse è stato aggiornato quando è stata fatta questa istantanea e poi vabbè qua c'è la ripeto non è il mio computer quindi alla fine non e c'è il system information che si trova su system infocenter praticamente ecco qua siamo su system setting del Plasma 5.21 che fa parte di Q.21.04 e qua abbiamo le varie diciamo i vari reparti c'è apparenza quindi potete cambiare diciamo il tema e poi c'è workspace che sarebbero che sarebbero gli angoli attivi oppure workspace e potete fare delle impostazioni cambiare tutte le impostazioni questo ho detto che il KDE purtroppo come c'è purtroppo è buono devo dire il migliore che c'è come desktop purtroppo tra virgolette è come quando andate in un negozio quando trovate volete comprare il computer trovate 100 computer esposti cioè vi perdete di casa cioè alla fine rimanete là dentro chiudere il negozio e poi dovete uscire l'indomani perché perché le vostre convinzioni si perdono mentre guardate piano piano tutti i vari computer siete arrivati magari al negozio con una certezza cioè di comprare quel computer specifico però poi vedete qualche cosa che migliora o fate dei confronti e rimanete là a guardare tutta la giornata 100 computer quando andate in un negozio che avete solo 3 computer per scegliere vi spiegate subito e vi ritrogliete il pensiero in questo caso Qbuntu o il KDE Plasma ha questo tra virgolette problema che per scegliere di fare qualche cosa dovete pensarci una giornata perché ci sono tante di quelle alternative che non sapete come impostarlo prima ecco qua c'è notifiche accessibilità applicazioni insomma potete fare qualsiasi cosa in questo caso siamo su Windows Management praticamente andiamo a vedere un'altra istantanea qua qua potete nel global tema tema globale potete praticamente fare il bridge dark quindi scegliere già bridge dark qua ci sono i temi semplificati cioè con un click cambia tutto il tema bridge Qbuntu bridge dark e poi che c'è qua bridge twilight twilight quindi avete dei temi diciamo già impostati che con un click vi cambia tutto praticamente e basta poi se cliccate magari nel vuoto qua si spegne completamente il computer e ve ne comprate un altro passiamo da questa battuta un'altra cosa questa applicazione stile delle applicazioni plasma style insomma sapete che su KDE potete fare tema cdk tema desktop e potete cambiare solo il menu come come tema scuro chiaro insomma tutte queste cose ripeto il KDE è più completo non solo nell'arco Reckno Linux ma su tutti i vari punti di vista anche su macOS non ce l'ha queste cose allora questo è lo stile plasma insomma come vedete c'è quello globale quello stile plasma potete fare parziale solo il menu il desktop intero insomma in un click solo potete fare quello siamo sempre su su system settings settore plasma style come vedete anche diciamo i gadget i widget vi cambiano vi cambiano secondo il tema che mettete KDE veramente in questo caso Qbuntu ha tutte queste soluzioni devo dire che se io se io avessi un computer comprato da poco ovviamente faccio farei passare il fatto della della garanzia finita la garanzia io toglierei direttamente il windows 10 o almeno farei un'altra partizione e farei ci metterei un bel KDE eviterei riandare nel settaggio perché mi perderei mi accontenterei quello che c'è però userei un bel KDE perché come ho detto già dall'inizio del video mi ci perdo qua i colori insomma i vari settori sempre su system setting qua potete cambiare anche le bordure delle finestre minimizzazione immassimazione e chiusura sempre su system setting come vedete sono vari settori molto completo l'altra volta ho fatto vedere il MATE ubuntu stesso ma non c'è tutta questa soluzione tutte queste scelte non ci sono qua siamo su i fonti potete cambiare i fonti vabbè qua ci sono su tutti i vari ambienti grafici qua le icone insomma vedete i brizi ci sono quelle ubuntu monodark se no se no se non erro e qua potete anche cambiare lo splash screen cioè l'accensione l'apertura del dopo il grub c'è diciamo l'immagine dell'accensione dello scorrere dell'accensione del computer e del sistema operativo e potete utilizzare splash screen e bridge in questo caso nessun splash screen o personalizzarlo farlo azzurro celeste metterci la vostra faccia che gira nel frattempo si carica il sistema operativo o tutto quello che vi piace insomma ci potete mettere anche una bella donna che gira insomma lo splash screen se il mouse mi assiste cambio l'immagine ecco qua questo è quello che non si vedeva prima l'informazione del sistema insomma ecco non so se già l'abbiamo visto forse già l'abbiamo visto forse sono ritornato indietro vediamo eh sì mi sa che l'abbiamo visto questo era l'inizio abbiamo visto tutto praticamente ecco eh terminando questo vi faccio vedere quello che abbiamo visto vi faccio scorrere ora siamo su c'è il nome femminile che proprio non ah Elisa Elisa è il programmare audio playing playing eh il menu non c'è più il kick off di una volta ma c'è questo l'applicazione menu eh che eh praticamente una fotocopia per cinnamon fatta forse un po' meglio devo dire graficamente molto più semplice e facile da individuare come programma e icone sì fatto meglio perchè il cinnamon è un po' confusonario come noi a dire la verità io l'ho sempre visto un po' confusonario eh questa è la stessa cosa in bianco praticamente è andato in bianco eh e qua eh praticamente c'è il system monitor che non c'è più che chiese guard eh che era molto più spartano qua siamo a livelli dei desktop environment come un Diffin che graficamente sta facendo tendenza lo stanno copiando un po' tutte a dire la verità ecco a parte l'XDA che ormai non è più tanto in sviluppo diciamo io lo metto nel mio eh poverissimo computer nel mio computer plebeo eh io c'ho un computer plebeo non è sangue blu è sangue rosso scuro eh e quindi si accontenta di queste queste desktop environment con open box un menu così così che si adegua alle situazioni è un proprietario che lo lo tratta bene lo liscia e quindi mi funziona meglio computer vecchio finisco qua allora q.2104 che fa mi ingrandisco si si vede sempre piccolo dire la verità come funziona il suo camorama vediamo visualizza medium large vediamo large acqua allora ehm ho cambiato il programma di visualizzazione allora abbiamo visto ehm il nuovo rilascio beta di ubuntu 21.04 che è uscito esattamente nello stesso momento di ubuntu mate 21.04 beta e ubuntu 21.04 beta non so se farò vedere anche gli altri perché insomma anche se non prendo le iso c'è sempre un lavoraccio sotto io eh non faccio effetti speciali perché non mh come vedete ho un microfono che è quello che è eh ho il mio la mia cameretta il mio computerino ve l'ho detto che è plebeo e quindi eh nel mio piccolo eh faccio dei video recensione che possono anche intrattenere nel modo giusto senza effetti speciali che appesantiscono un po' la visuale e farsi un'idea di quello che è uscito nel mercato in questo caso mercato gratis che sarebbe open source come alternativa ai sistemi operativi che sono mh commerciale eh 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 questo video eh è dedicato a chi mi incita a farne sempre perché io eh se vedete il mio canale ai primi tempi facevo un po' di di effetti speciali cioè ero ero molto ero più giovane non ho i capelli bianchi ma non ce ne ho quasi più capelli sono pure bianchi ehm ora faccio dei video più semplici perché eh lo faccio più che altro per eh fare qualche cosa per fare contento qualche amico che gli piace vedere i filmati anche se fatti statici così insomma mi spronano a fare questi filmati io mi diverto a farli eh perché mi passo quell'oretta tra farlo eh ed ed esporlo ed esportarlo su youtube insomma eh faccio un check solo quindi se ci sono dei difetti di pronunciare cose perché non taglio i video che ovviamente sarebbe perfetto tagliare i video e fare perché vedo tanti tanti filmati dei youtuber che tagliano tutto quello che sbagliano e poi diventano perfetti perché si taglia tutto quello che non va io faccio tutto in un colpo solo massimo due check vedo che non sono proprio portato in quel momento sblocco subito poi poi tiro dritto e faccio il filmato ora chiudo qua eh con con un saluto grande grande a chi segue questo canale ripeto malgrado i video fatti statici e fatti solamente con tanta passione e a un prossimo filmato quando riuscirò a farlo ciao ciao a tutti